I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito un nuovo sequestro di oltre 11 kg di cocaina presso gli imbarcaderi dei traghetti che collegano con la Calabria, trasportata all'interno di un autoveicolo diretto in Sicilia ed arrestato un altro corriere. L'operazione è stata eseguita nel corso dei controlli effettuati dalle fiamme gialle presso gli imbarcaderi delle navi traghetto grazie all'esperienza investigativa maturate e all'eccellenza e fiuto dei cani antidroga. I militari hanno sottoposto a controllo numerose auto provenienti dalla Calabria. E' stato il fiuto del cane dendi a segnalare la presenza di droga all'interno dell'auto condotta da un uomo che da un primo controllo non era stata rinvenuta. I finanzieri hanno eseguito un controllo più approfondito sul mezzo smontando i pannelli interni dell'abitacolo. Qui hanno scoperto 10 panetti di cocaina avvolti in involucri di cielo, fanno sigillati con nastro da imballaggio. Il corriere della droga, un uomo di origine calabrese, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente condotto in carcere. Oltre alla sostanza stupefacente è stato sequestrato anche il mezzo su cui viaggiava il corriere.